Buonasera, ben arrivati. Ora possiamo cominciare. Anzi chiedo a Stefano la cortesia se ci chiude anche la porta all'infondo così che evitiamo alcuni rumori. Siete comodi, avete caldo, avete freddo, state bene? E voi sapete che una delle prime regole per essere attenti, e questo vale anche per la preghiera, è che il nostro corpo sia comodo. Magari non troppo però che sia comodo perché altrimenti cosa succede? Che se io ho una sedia scomoda e mi fa male la schiena starò attento al mio mal di schiena al posto di stare attento alla mia preghiera, oppure posso stare attento a chi mi sta parlando. Quindi anche la comodità ha sicuramente la sua funzionalità. Al di là della battuta ci tengo a darvi un caloroso bentornati. Avete voglia di ricominciare? Avete cominciato bene nella vostra parrocchia? Bene. Diamo inizio al nostro percorso di formazione che ci vedrà impegnati ma anche appassionati per sei incontri se non sbaglio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei incontri sì. Questi incontri sono stati pensati in seguito anche agli ultimi due appuntamenti dello scorso anno. Se vi ricordate avevamo concordato un po' qui le tematiche da affrontare quest'anno. Avevamo fatto un sondaggio che coinvolgesse il maggior numero dei presenti e dei destinatari così che potessimo tarare il nostro intervento quest'anno. E erano emerse le richieste di approfondire tematiche di carattere pedagogico e spirituale, di continuare ancora con Don Raffaele per la parte biblica e poi di dare spazio ancora a Don Valentino come lo scorso anno per un incontro nel rapporto tra catechesi e arte. E questo è il risultato. Per la parte pedagogica spirituale, i primi due incontri li condurrà Giuseppe e Mari, lo conosciamo già, penso che la maggior parte di voi già anche in altre occasioni ha potuto confrontarsi con lui. A Giuseppe ho chiesto, quando ci siamo sentiti per programmare le tematiche e per riuscire a concentrare, a essere precisi nell'intervento. Dicevo, ci sono alcune parole chiave che definiscono le varie culture e anche le varie fasi storiche nelle quali l'uomo ha manifestato la sua ricerca, la sua identità, ha manifestato, ha espresso la sua persona, anche il suo modo di affrontare la vita. Dicevo, oggi noi che siamo catechisti raccontiamo Dio, e il nostro Dio è il Dio di Gesù Cristo, chiaramente per come siamo capaci, ma in un contesto dove sembra quasi che Dio non sia più contemplato. La parola stessa, Dio, oggi potrebbe quasi essere tolta dal vocabolario e credo che capiremmo comunque la nostra società, la nostra cultura. Al contrario penso che faremmo fatica forse a capirla se togliessimo le parole tecnica, mercato, denaro, mentre se noi togliamo la parola Dio forse oggi ci capiamo lo stesso, o meglio comprendiamo che cosa è la nostra cultura, la nostra società. Poi se questo sia un male, penso che noi sappiamo fare il passo successivo e chiaramente non è un bene. Ora dicevo a Giuseppe ma può fare veramente a meno di Dio la nostra cultura, la nostra società oggi? E lui ha tracciato questa scheda che voi trovate all'ingresso e che riguarderà l'intervento di questa sera. Prima di cominciare è bene ed è giusto e doveroso che noi chiediamo lo Spirito che ci illumini, che dica bene di noi, del nostro impegno e della nostra passione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Santo Spirito, illumina le nostre menti, rendici docili la tua volontà, capaci di cogliere il vero bene per noi e per le persone che incontreremo assieme. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Prego Giuseppe. Ora si parte, sì. Io ringrazio molto Don Davide per l'invito che mi ha fatto a venire incontrarvi, perché non soltanto per me è l'occasione per reincontrarvi, ma anche perché è l'occasione per incontrare nella vostra persona degli educatori. Allora io quando ho l'opportunità di incontrare gli educatori lo faccio volentieri, perché per me significa poter fare una proposta e raccogliere poi degli spunti a margine della proposta. Quindi io vi ringrazio molto per l'attenzione che porterete alla proposta che adesso vi illustrerò in non più di 40-45 minuti e poi per i pensieri che vorrete condividere con me a margine appunto di questa proposta. Don Davide mi ha chiesto di tenere due interventi che immagino così. Questa sera affrontiamo il tema che gli ho posto, che è un tema radicale con cui dobbiamo confrontarci, in una modalità che nelle mie intenzioni vorrebbe cercare di scuotere rispetto a ciò che sembra apparentemente scontato. Cioè mi pare che noi siamo esposti oggi, ma in altre epoche già avvenuto, a rischio di abituarci, nel senso di rassegnarci, a una situazione nella quale sembra che quello che ci sta a cuore come credenti, tanto che come catechisti, sia veramente marginale. D'altronde il nostro Papa continuamente ci richiama a evitare la mondanizzazione e la mondanizzazione appunto questo, è aderire alla mentalità del mondo come se non ci fosse più quel richiamo ad andare oltre il mondo stesso, che è il cuore dell'annuncio della fede evidentemente. La volta prossima vorrei invece provare con voi a intraprendere un percorso di tipo più positivo e quindi la domanda che ci porremo sarà questa. Come provare a introdurre i più giovani dentro un stile di vita e un modo di concepire la vita che riconosca l'essenzialità di Dio. Perché? La suggestione da cui vorrei partire è semplicemente questa. Se Dio è Dio è l'essenziale. Allora è essenziale come l'ossigeno alla vita. Possiamo noi vivere senza ossigeno? No. Allora vuol dire che se noi viviamo come se Dio non ci fosse, abbracciamo uno stile di vita che assomiglia all'ipotesi che si possa vivere senza ossigeno. Però di fronte a tutto questo c'è un elemento che secondo me ci mette molto in difficoltà ed è quello che dicevo un attimo fa da Davide. Sembra che tutto funzioni lo stesso. Allora penso che tutti noi in quanto credenti da questa osservazione stiamo profondamente colpiti. Perché? Perché ovviamente guardiamo alla vita come al terreno su cui si prova la verità delle cose. Che cosa distingue ciò che è vero da ciò che è falso? È essenzialmente come nella vita le cose si presentano. Se dico che questo bicchiere è blu dico una falsità perché tutti noi constatiamo che non è blu. Allora vuol dire che il banco di prova della vita non è secondario per noi. Perché nella misura in cui noi ci lasciamo sedurre dall'idea, dal sospetto che ci viene costantemente rilanciato, che quello che noi crediamo sia marginale, sia ininfluente, sia scarsamente importante, a questo punto noi perdiamo la motivazione a procedere ad un annuncio vero e proprio. Cioè noi non possiamo accontentarci di, come dire, intercettare spazi marginali. e vorrei che noi riflettessimo un'altra volta sul nostro Papa. Il nostro Papa è un Gesuita. Qual è il motto dei Gesuiti? Ad maioren dei gloriam. Cioè per la maggiore gloria di Dio, non soltanto per la gloria di Dio. Questo è un formidabile richiamo a non accontentarsi. Ed infatti lungo la storia la compagnia di Gesù è sempre stata presente dovunque. Il Papa parla delle periferie. Certamente noi di questa immagine possiamo dare un'interpretazione ambientale, pensando quindi delle periferie del disagio, eccetera. Ma a me viene anche da credere che ci sia un'altra interpretazione che va affiancata a questa. Cioè che le periferie siano le frontiere. Se voi ci pensate, i Gesuiti sono sempre stati uomini di frontiera. E che cosa li spingeva ad andare verso le frontiere, a non accontentarsi mai di quello che sembrava sufficiente? Questo richiamo alla maggiore gloria di Dio. Allora penso che noi dobbiamo, nel nostro piccolo, effettivamente raccogliere la sfida di confrontarci con un mondo nel quale sembra che tutto funzioni anche senza il riconoscimento di quello che noi riteniamo sia essenziale. Per mettere in discussione queste ipotesi e a questo punto trovare la motivazione per rilanciare la proposta religiosa cristiana. Anche perché il rischio cui vedo esposta la nostra educazione alla fede è questo. Che noi, vedendo la difficoltà di far incontrare la gente con l'annuncio di Gesù Cristo e vedendo comunque che ci sono nella vita umana svariate situazioni che domandano un annuncio, il rischio, mi pare, è quello che noi atterriamo letteralmente su un terreno che è quello della pura e semplice umanità. Cioè che noi trasformiamo l'educazione cristiana in pura e semplice educazione alla filantropia, al volersi bene, all'essere generosi. Ma grazie a Dio non bisogna essere cristiani per essere generosi, è sufficiente essere uomini e donne maturi. Allora se noi appiattiamo l'annuncio cristiano su questo livello, la mia impressione è che noi effettivamente mondanizziamo completamente l'annuncio. E quindi a questo punto si perde il riconoscimento di che cosa? Si perde il riconoscimento dell'avvento di Dio. Se c'è stato questo avvento e noi aspettiamo il secondo avvento, quello definitivo, allora vuol dire che le cose da sole non bastavano. Se bastasse l'umanità per riscattare l'essere umano non occorreva Gesù Cristo, non occorreva l'incarnazione, non occorreva niente. Era sufficiente che la creazione potesse esprimersi in ciò che già la creazione ha dentro di divino, perché non dimentichiamo che comunque è Dio che ha creato tutto. Ma l'incarnazione è venuta evidentemente perché non era sufficiente la creazione. Allora credo che sia importante che noi cogliamo l'essenzialità, non del puro e semplice annuncio di virtù umane, e nemmeno del puro e semplice annuncio di Dio, perché Dio l'umanità l'ha sempre riconosciuto anche prima del cristianesimo. Ma è l'annuncio di Gesù Cristo, cioè è l'annuncio di un Dio che si esprime secondo una modalità tipica, che certamente abbraccia anche l'umano, ma non si ferma l'umano. Ora credo che questo sia tanto più necessario oggi e domani, perché? Perché noi siamo entrati e ci stiamo inoltrando in un mondo contrassegnato dal pluralismo religioso. Quindi il rischio è che noi, mossi dalle migliori intenzioni, cioè le intenzioni che volgono a praticare l'incontro, il confronto, la condivisione, il rischio è che in un certo punto arriviamo a ritenere che le diverse religioni sono altrettante vie per arrivare a Dio, è un rischio assolutamente reale, che va colto però nella sua totale inappropriatezza, perché se tutte le religioni concessero Dio non occorreva l'incarnazione. Allora, evidentemente c'è una specificità dell'annuncio cristiano. Certamente, come dice il Vaticano II, nelle altre religioni troviamo dei semi di verità. Ma questi semi di verità noi li riconosciamo alla luce dell'annuncio di Cristo e dell'annuncio di Cristo che permette la salvezza, non i semi di verità sparsi in diverse religioni. Allora, questo è importante che l'abbiamo chiaro, perché se non l'abbiamo chiaro noi non annunciamo più Gesù Cristo. Annunciamo genericamente Dio o annunciamo un Cristo generico che diventa un profeta come tanti altri ce ne sono stati, o annunciamo dei valori e delle virtù umane, bellissime, importantissimi questi valori e queste virtù, ma non essenziali per quello che ci sta a cuore. E quello che ci sta a cuore è la salvezza. La mia impressione, con questo concludo la mia introduzione, è che noi dobbiamo avere la forza e il coraggio di dirci che cosa è essenziale dentro l'annuncio cristiano. L'ipotesi che vorrei condividere con voi questa sera è che l'annuncio cristiano essenzialmente è l'annuncio della salvezza. Dove la parola salvezza riguarda la risposta al quesito che l'umanità si è sempre posta, e lo vedremo tra breve, è il quesito della transitorietà di tutto. tutto quello che noi facciamo, conosciamo, incrociamo, è fuggevole, passa. La salvezza è la risposta alla disintegrazione a cui tutto ciò che noi sperimentiamo va incontro. Non è quindi un annuncio marginale, è un annuncio essenziale. E allora, per introducirci a questo, io vorrei con voi innanzitutto prendere sul serio questa percezione diffusa, che almeno io ho, poi vorrei sentire se l'avete anche voi, è quello che diceva Don Davide, tutto sembra funzionare. Vorrei prendere alcuni spunti di questo e poi provare con voi a problematizzarli, per portarci al secondo passaggio in cui vorrei sostenere questa tesi. Chiaramente tutti noi stiamo cercando di capire dove possiamo muoversi. Qui nessuno la ricetta la ha trovata, sia chiaro, ok? Però penso che dobbiamo avere la forza di confrontarci sul lungo periodo, perché insomma quando nelle cose le guardiamo in prospettiva, forse siamo meno distratti dai particolari. Allora la mia impressione è questa, detta volgarmente, in maniera un po' semplificata. Noi prima abbiamo provato a usare il bastone, poi abbiamo provato a usare la carota, il risultato è sempre lo stesso. L'impressione era che non raggiungessimo niente quando minacciavamo, intervenivamo in maniera sanzionatoria, eccetera, contrapponevamo la Chiesa al mondo, e sappiamo che è il periodo di qualche decennio fa, più o meno qua dentro, guardando in faccia, ce lo ricordiamo tutti? Ma diciamoci chiaramente, non è che la strategia presa in ultimi decenni, in base a cui abbiamo cominciato a dire che in fin dei conti tutto quanto fa brodo, porti da qualche parte, eh? Noi stiamo assistendo al declino evidente della sacra mentalità, che vuol dire due cose. Primo, la gente non va più a messa. Secondo, gli stessi ragazzi che noi portiamo i sacramenti, non soltanto non vanno più a messa la domenica dopo, ma non ci vanno nemmeno durante il percorso in cui li portiamo, eh? Se vogliamo dircela tutta. Allora, come si fa a dire che questa cosa qua funzioni? Evidentemente non sta funzionando. Ma voglio essere molto chiaro, non è che non funziona qui, non funziona da nessuna parte, perché quando io mi confronto con gli amici miei, polacchi, slovacchi, noi ci immaginiamo i paesi dell'est come una sorta di, loro stessi mi dicono, guarda che qui stiamo constatando che portiamo i ragazzi ai sacramenti e non va più a messa nessuno. Quindi vuol dire che il problema è generale, direi generale, del mondo occidentale europeo. Non so come sia in America, ma da noi è così. Allora, a questo punto forse dobbiamo chiederci, le due strategie pur così diverse hanno una cosa in comune. La prima era oppositiva. noi siamo contro il mondo e quindi gli facciamo la guerra. È la strategia, se volete, che è partita nel dopoguerra. Avete in mente la chiesa di Pio XII? Pio XII perseguiva una cristianizzazione del mondo utilizzando tutti gli strumenti. Provate a pensare al cinema, come valorizzò il cinema. Avete presente le pellicole che proiettavamo nei nostri cinema negli anni 50-60? Erano pellicole che rispondevano, penso a quella di Maria Goretti, per esempio, o quelle sulle varie apparizioni. Ha una logica in base a cui utilizziamo questo strumento per rievangelizzare, cristianizzare. Non ha funzionato. Ma anche la strategia degli ultimi decenni, quella che se volete ha preso forma in gran parte dopo il Concilio, e che ci ha portato questa volta a cercare l'incontro. Sapete cosa diceva Pagiovanni nella sua grande saggezza? Dobbiamo partire da quello che ci unisce. Ecco, però a un certo punto si arriva anche a quello che divide, perché non si può pensare che secoli siano stati un equivoco. Se certe cose sono durante secoli ci sarà pur qualcosa che distingue, no? E quindi ci stiamo accorgendo che a un certo punto anche gli elementi di prossimità vengono meno. Grazie a Dio nel frattempo però abbiamo smesso di odiarci reciprocamente e quindi possiamo veramente immaginare di incontrarci. L'ipotesi che vorrei porre sul tappeto è questa. Forse si tratta a questo punto né di respingere il mondo, né di abbracciare il mondo, ma di ordinare il mondo. Cioè forse l'ipotesi è questa. Tutto quello che abbiamo ce l'abbiamo per tante ragioni, non ultima il fatto che lavorando l'abbiamo costruito, non è che vale la pena che noi lo buttiamo via oppure che noi ci accontentiamo di averlo. Apro una parentese, mi viene da ridere, quando noi facciamo le filippiche sul consumismo, ma siamo tutti consumisti, scusate, ma cosa stiamo qua a raccontarci? D'altro canto il consumismo è il risultato che del nostro lavoro. E allora cosa facciamo? Ci adattiamo ad essere consumatori? No. Forse dobbiamo maturare la capacità di mettere ordine ai nostri consumi, perché si capisca i consumi a cosa devono servire, perché si capisca cosa vale di più e cosa vale di meno, cosa viene prima e cosa viene dopo, capite? In questo modo io non sono oppositivo, non dico respingiamo, ma non sono neanche a dire quello che abbiamo va bene così com'è, sono a dire occorre fare la fatica di ordinare quello che abbiamo, perché non tutto vale allo stesso modo, non tutto serve allo stesso modo. E mi chiedo se non sia questa una strategia che possiamo effettivamente mettere in campo per muoverci in questo mondo senza consegnarci e rassegnarci a questo mondo. Ed è appunto in forza di questa ipotesi che vorrei concludere, riflettendo con voi su come si possa comporre ciò che sembra dissociato e ponendo in prospettiva, ma riprenderò la volta prossima, il quesito da dove forse possiamo cominciare nel tentativo di prendere il toro per le corna e di puntare in effetti a lasciare il segno. I catechisti sono educatori, i catechisti sono insegnanti, insegnano. Cosa vuol dire essere insegnante? Vuol dire lasciare il segno. Un insegnante che non lascia il segno non è un insegnante. Certo la sfida è di lasciare un segno bello e non brutto, perché tutti noi abbiamo nel nostro immaginario dei ricordi qualche insegnante che ci ha lasciato pessimi segni. Però penso che tutti noi ricordiamo invece qualche insegnante che ci ha segnato bene e ci diciamo è stata una grazia incontrarla quella persona. Allora non possiamo accettare l'irrilevanza dell'educazione cristiana. Dobbiamo avere la forza di cogliere ciò che l'educazione cristiana in effetti riesce già a lasciare come impronta e di incoraggiarlo e incrementarlo perché sia più forte. E questo perché dobbiamo farlo? Arrivo alla conclusione. Perché la fede che abbiamo ricevuto è un dono, ma è un dono che noi siamo chiamati a trasmettere. Ma allora attenzione però, se queste parole che noi continuiamo a ripeterci significano qualcosa, vuol dire che non possiamo rassegnarci all'appariscenza o all'apparenza di non trasmettere. L'amore di Cristo, dice l'apostrofo, l'apostolo urge. E qui dobbiamo sentire questa esigenza di trasmettere, di non trattenere. Cominciamo allora il nostro percorso confrontandoci con questa apparenza che sembrerebbe talvolta affermare che quello che noi facciamo sia fondamentalmente rilevante. Alcune immagini. Una prima immagine. Non siamo più nel Medioevo. Il Medioevo è la stagione in cui si potevano credere certe cose. Ma adesso siamo evoluti, siamo istruiti, siamo affrancati sul piano sociale. Quindi quello che poteva andare bene in un'epoca di barbarie o comunque in un'epoca più o meno scura, certamente non ci serve più. E quindi non essendo più nel Medioevo noi ci vogliamo liberare da certe cose che eventualmente possiamo mantenere come forma. Un po' come quando mettiamo le luminarie sulle strade a Natale. Le luminarie sono una forma di tipo estetico, ma non servono per illuminare le strade, che hanno già i lampioni. La nostra fede rischia di essere un po' come la luminaria che mettiamo in campo per dare un tocco estetico, per alimentare un po' di commozione. Ma tutte cose assolutamente marginali. Parlavo di luce, allora c'è una stagione storica che è stata chiamata due secoli fa, si è espresso soprattutto illuminismo, per dire appunto che finalmente la scienza illuminava, cioè toglieva dalle tenebre dell'ignoranza. E certamente la gran parte degli illuministi pensava che fossimo noi responsabili delle tenebre, quindi siamo dentro il discorso. all'illuminismo è seguito il positivismo, il quale positivismo non si limita a dire che finalmente abbiamo il modo di capire come stanno le cose, ma ci dice che abbiamo finalmente qualcosa di solido su cui basare la nostra vita. La parola positivismo deriva da positum, e positum è una cosa di posto, che sta. E questo qualcosa di posto che sta che cos'è? È la scienza. La scienza che finalmente svela i segreti della natura. E la prova del fatto che abbiamo raggiunto finalmente questo è la tecnica. Perché la tecnica che cosa ci dice? Ci dice che il nostro sapere serve a qualcosa. E la nostra vita oggi certamente si esprime in maniera molto più facile di qualche generazione fa, grazie alla tecnica che è generata dalla scienza. E tutto questo l'abbiamo chiamato progresso. Infatti negli ultimi decenni l'idea di essere progressisti è sempre stata guardata come l'idea di chi stava davanti. E il progresso è appunto la convinzione che le cose avanzano. E avanzano dentro questo movimento che dalla conoscenza porta agli strumenti tecnici e questi danno tutto il resto. Notate che su questa storia del progresso noi oggi stiamo prendo gli occhi. Perché mai avremmo pensato, se ci fossimo trovati in questa sala vent'anni fa, di tornare a toccare il fenomeno della povertà. È vero o no? È vero o no? Pensavamo che questo fenomeno riguardassi i nostri vecchi, il nonno, il bisnonno, eccetera. Oggi basta che uno perde il lavoro e in quella famiglia la povertà rientra immediatamente. Quindi comprendiamo finalmente che il progresso è una illusione ottica. Il progresso non esiste. esiste un movimento della storia che noi crediamo che Dio guida da qualche parte e questa parte ancora lui lo guida a se stesso. Ecco perché noi crediamo nella provvidenza. Ma dentro questo movimento non è detto che le cose vadano sempre avanti. Possono anche andare indietro. Il racconto dell'Esodo cosa ci dice? Che a un certo punto a causa dei comportamenti del popolo Dio ha detto nessuno di voi, salvo due persone, entreranno alla terra promessa. E quelli hanno girato 40 anni finché della vecchia generazione ne sono rimaste solo due in vita. Non è stato un progresso, è stato un regresso, ma che serviva ad un avanzamento legato però al disegno di Dio. Quindi tutti questi elementi secondo me sono quelli che circolano oggi per guardare con sufficienza quello che noi crediamo e quindi di fatto togliere forza al nostro annuncio e rendere il nostro annuncio qualcosa di assolutamente marginale nell'immaginario generale. A questi però vorrei rispondere con alcuni quesiti e parto dalla coda perché il riferimento che ho fatto in coda è riferimento al benessere. Il benessere è senz'altro una formidabile conquista. Tutti noi stiamo certamente meglio dei nostri antenati sul piano psicofisico e certamente questa è una cosa di cui possiamo essere lieti e anche andare fieri nella misura in cui corrisponde a intelligenze e volontà che sono applicate per raggiungere certi risultati. Però mi sembra che se c'è una pagina, una parola evangelica che sembra scritta per noi è quella che trovate qui citata che giova all'uomo guadagnare il mondo se perde la sua anima. Noi abbiamo guadagnato il mondo, abbiamo scritto le sonde che sono addirittura uscite da fuori il sistema solare e stiamo infilando le mani nel genoma, nell'infinitamente piccolo. Quindi noi abbiamo, stiamo guadagnando il mondo ma siamo anche a rischio di perdere l'anima. E senza toccare il tema del disagio su cui già altre volte vi ho parlato, ma insomma alcuni fenomeni non ci possono lasciare indifferenti. Ad esempio il crollo del matrimonio, che sembra una cosa a cui ci stiamo abituando. Senza renderci conto che il crollo del matrimonio non è problematico soltanto per la Chiesa perché evidentemente investe direttamente un sacramento. Non è nemmeno problematico soltanto per lo Stato perché vuol dire, vorrebbe dire, ma sembra che nessuno gliene importi niente, che tutto si appiattisce sul privato e non si coglie più la valenza pubblica del matrimonio. Ma c'è un altro elemento tragico che è questo. Quando due si amano il loro sogno qual è? E lo sappiamo tutti. Forse che qualcuno ha mai amato pensando che il suo amore fosse a termine? Ditemi voi. Qual è il sogno di ogni amore? Che sia eterno, condividete oppure no? Ora il crollo, perché questo non è una crisi, questo è un crollo, perché se metà matrimonio va indivolto in separazione, questo è un crollo, non è una crisi, non è un'influenza, è una malattia grave. Il crollo del matrimonio cosa significa? Significa dissociare il sogno dell'amore eterno dalla realtà, cioè far diventare l'amore eterno una utopia. Ma se l'amore eterno diventa un'utopia, perché mai dovrei impegnarmi in esso, sentite? La prima regola della morale qual è? Lo dico in latino perché suona bene poi traduco. Ad impossibilia nemo tenetur, nessuno è tenuto a fare le cose impossibili. Questo è il primo principio della morale. Quindi se diventa impossibile l'amore eterno, ma perché mai io dovrei impegnarmi ad amare qualcuno in questo modo? Non dovrei piuttosto temere questo richiamo e quindi liberarmene. Ma se l'uomo si libera dal richiamo dell'amore eterno, che cosa diventa la sua vita? Tutti lo cuogliamo. Diventa qualcosa di particolarmente miserabile. Allora capiamo che dentro questo fenomeno si gioca tanto della vita umana. Quindi di fronte al benessere evidente noi possiamo quantomeno osservare questo. Certo che c'è tanto benessere, ma c'è anche tanto malessere. E forse, e qui comincio a buttare lì la tesi di fondo di questa mia chiacchierata, è per pura presunzione che noi parliamo di benessere e non di malessere. La mia impressione è che il peccato che ci siamo macchiati in questi ultimi decenni è il peccato della presunzione. Siamo stati presuntuosi. Abbiamo creduto di avere finalmente capito. E come accade anche all'antico islaere di cui noi siamo eredi, cosa dice la Bibbia? Che quello era un popolo di dura cervice, ma anche noi abbiamo la testa dura e anche noi capiamo solo le legnate, questo è il punto. e ne stiamo prendendo tante, ma forse non la sufficiente. Allora in realtà c'è tanto benessere, ma c'è anche tanto malessere. Ed è sufficiente che noi facciamo un giro per vedere cosa combinano questi ragazzi venerdì sabato sera, per renderci conto di cosa vuol dire. E non dico questo dei ragazzi per prendermela con loro, ma per una ragione molto semplice, perché i loro problemi sono anche quelli di noi adulti, con questa formidabile differenza. Noi adulti, per il fatto che siamo adulti siamo capaci di fingere. I ragazzi no. Tutto qui. Ma il loro disagio è il nostro disagio. Solo che noi riusciamo a nasconderlo. Ma non dico questo per dire che siamo ipocriti. Ci potrà essere anche ipocresia, ma c'è anche responsabilità, preoccupazione, il riconoscimento che alcune cose valgono e quindi meritano che noi cerchiamo almeno le intenzioni di. Tante cose. Sta di fatto che questa operazione, che riesce, può riuscire a noi adulti, certamente non riesce ai ragazzi. l'altro riferimento alla tecnica. Se dovessimo smettere di credere, il nostro uso della conoscenza ne risentirebbe. Ripeto la domanda. Se dovessimo smettere di credere, perché la pongo così? Perché noi stiamo attraversando una gigantesca crisi di fede. Quindi il rischio che noi smettiamo di credere non è così fantasmagorico. Se noi smettessimo di credere, l'uso della nostra conoscenza cambierebbe? E mi riferisco alla tecnica evidentemente. Guardate che si potrebbe anche pensare che non cambierebbe affatto. Perché la tecnica ha le sue regole. Che funzionano sia che uno creda, sia che uno non creda. Ma il problema è appunto questo. La tecnica identifica il puro funzionamento. Questo vuol dire che nella prospettiva della tecnica ha valore soltanto quello che è utile. Ma provate a pensare alla nostra vita. Nella nostra vita ha valore soltanto quello che è utile? Forse che i figli li abbiamo messi al mondo per avere qualcuno che ci accudisca quando saremo vecchi? No! E li abbiamo messi al mondo per compiere un atto d'amore. Per dirci il nostro amore anche in un frutto di questo. E non soltanto nell'incontro tra i nostri colpi e le nostre vite. Chiaro? Ora, questo gesto è quanto di più inutile si possa fare. Se lo valutiamo in termini puramente utilitaristici. Perché tutti quelli che mettono al mondo figli, l'hanno sempre saputo anche quelli che ci hanno preceduto, anzitutto contraggono un debito. È vero o no? Quindi, il fatto che noi abbiamo questa formidabile aspirazione al figlio, tant'è vero che quando io parlo alle coppie, sapendo che ce n'è senz'altro una quota non trascurabile che sono divorziati, separati, eccetera, per lanciare l'idea che c'è comunque motivo di credere che è possibile assumere impegni eterni, io non gli faccio l'esempio della vita di coppia, anche perché potrei finire a divorziare anch'io, cosa ne so, ma gli dico, voi che avete messo al mondo un figlio, e sono tutti lì, perché evidentemente parlo ai genitori dell'azione cristiana, divorziereste mai dal figlio? E qual è la risposta che mi arriva subito? No, ma chi di noi divorzierebbe dal figlio? Nessuno. Cogliete come forte questo legame, è un legame fortissimo, ma non è assolutamente utilitaristico come legame. Questo vuol dire che il riferimento alla tecnica, che è importante, eccetera, eccetera, non è essenziale, perché quando noi ci misuriamo con la tecnica, ci misuriamo con quello che serve, e quello che serve è certamente importante, ma è molto più importante ciò in vista di cui si fanno le cose che servono. La fede ci dice appunto questo, la fede per il fatto che ci apre oltre l'orizzonte dello spazio del tempo, ci dice che le cose che noi facciamo valgono non per quello che rendono, ma valgono per quello che esprimono. Ho parafrasato la frase di un grande bresciano d'adozione, che si chiamava Bevilacqua, Bevilacqua era veronese, lui era uno dei maestri di Paolo VI, era un padre della pace, fu un uomo che si confrontò con il fascismo, e lui era solito dire, le idee valgono non per quello che rendono, ma per quello che costano. Ora, una frase del genere acquista un senso solo se uno non ha fede, perché se uno non ha fede, le idee valgono solo per quello che rendono, esattamente come quello che facciamo ogni giorno. Ma noi ci rendiamo conto che una vita che si contragga soltanto su quello che rende, diventa ancora una volta una vita migrabile. Quindi, la tecnica non va demonizzata, ma certamente va ordinata, occorre avere chiaro perché noi facciamo certe cose. Il fine, e la fede ci orienta verso i fini. E per quanto riguarda la scienza, se noi perdessimo la fede, la scienza non ne risentirebbe, da due o trecento anni ci continuano a dire che è proprio così. Cioè, che per praticare la scienza non serve la fede. Ma questo per quale motivo? Perché la fede non è stata riconosciuta come conoscenza. E invece la fede è anche questo. E qui c'è un problema grosso per noi, perché noi stiamo riducendo la fede all'incontro con Gesù Cristo, virgola, vissuti in temini puramente esistenziali. L'amico, il compagno, e storie varie. Ora, certamente Gesù Cristo è anche nostro amico, ma Gesù Cristo è anzitutto il verbo, cioè è la verità fatta carne. Ora, se Gesù Cristo è la verità fatta carne, vuol dire che incontrare Gesù Cristo non ci introduce in un pure e semplice rapporto interpersonale, ma ci fa incontrare la verità. Cioè, la fede è anche conoscenza. Non è soltanto incontro con qualcuno così, in temini vagamente esistenziali. È anche conoscenza. È soprattutto conoscenza, perché ci fa conoscere la verità. È interessante notare che quando i primi padri della Chiesa affrontarono la prima questione grossa, che fu il confronto con la cosiddetta Agnosi. La cosiddetta Agnosi cos'era? Era un modo di pensare, anche da credenti, che più o meno suonava così. La salvezza viene dalla conoscenza. La conoscenza la possiamo raggiungere. Quindi la salvezza è il frutto di una conoscenza che raggiungiamo da noi stessi. Guardate che la traduzione contemporanea di questo è il buddismo. Infatti il Dalai Lama, onestamente, a Milano, in uno dei suoi interventi, disse la differenza tra noi cristiani è questa. I cristiani dicono che è Dio che li redime. Noi diciamo che noi ci autoredimiamo. Perché attraverso una conoscenza che noi possiamo raggiungere nell'illuminazione, eccetera, che noi arriviamo a salvarci. Ora è interessante notare che i primi padri della Chiesa che si confrontarono con questo problema, soprattutto due che si chiamavano Ireneo di Lione e Clemente Alessandrino, per affrontare questo problema, che è un grosso problema, non dissero che la fede con la conoscenza non c'entrava niente. Ma dissero, certamente la fede è conoscenza. Ma mentre voi Gnostici dice, dite che la fede è una conoscenza che voi riuscite a raggiungere da voi stessi, noi cattolici diciamo che la fede è una conoscenza che raggiungiamo per grazia, perché è Dio che ci dona questa conoscenza. Allora penso che sia importante che noi riconsideriamo che la fede è anche conoscenza. Cioè che far incontrare Gesù Cristo significa far incontrare un modo di conoscere il mondo, di intendere il mondo, quindi di conoscere la vita e di praticare la vita. Tema del progresso, cerco un attimo di accelerare. Nell'Apocalisse leggiamo che il nostro Dio è colui che è, che era e che viene. Questo vuol dire che nella prospettiva biblico cristiana il rapporto con Dio è essenzialmente un rapporto di avvento. Dio viene perché la sua è la prima iniziativa a cui noi possiamo sperabilmente rispondere. Provate a pensare alla parola grazia. La parola grazia è molto importante per noi perché ci dice appunto che è dono quello che Dio ci dà. Ci avete mai pensato che la parola grazia somiglia alla parola grazie? E la parola grazia, intesa come risposta, come dico grazia a qualcuno, è sempre responsiva. Ogni volta che noi diciamo grazie, lo diciamo sempre in risposta a qualcuno. Non è mai la prima azione che viene compiuta, è la seconda. È sempre un'azione generata da qualcun altro. E così è la grazia. La grazia ci viene donata perché noi possiamo rispondere e corrispondere. Quindi l'idea di progresso non è un'idea cristiana, è un'idea radicalmente anticristiana. Tra tutte quelle che sto toccando è quella con cui faccio più fatica a dire che dobbiamo cercare in qualche maniera di agganciarla. Se non considerando che forse storicamente parlando il progresso è veramente, come alcuni hanno detto, la secolarizzazione dell'idea di provvidenza. come la provvidenza traccia un cammino per l'umanità che guida a Dio perché è Dio stesso che attira a sé, così il progresso è la secolarizzazione di questo perché è un tracciato che l'umanità si dà da se stessa. E' coloro che forse noi possiamo arrivare a ricomprendere questo partendo appunto dai segni di regresso che noi stiamo considerando oggi e che sono sempre accaduti. E in questa maniera in qualche modo vaccinandoci ancora una volta rispetto alla presunzione di avere capito come andavano le cose. Ultimi tre riferimenti. Il positivismo. Il positivismo si fonda sulla scienza e ci dice la scienza può spiegare, la scienza sa spiegare. Quelle della fede sono favole. Tipico esempio, l'evoluzionismo. L'evoluzionismo spiega come il mondo si è configurato. Ma che cosa l'evoluzionismo non può spiegare per definizione? E non può spiegare da dove è uscito il mondo. Perché la scienza per applicarsi a qualcosa occorre che ci sia qualcosa. Quindi la scienza deve sempre presupporre che ci sia qualcosa. La scienza per questo non può rispondere alla domanda sull'origine. Può eventualmente rispondere alla domanda su come si è sviluppato qualcosa ma deve sempre presupporre che qualcosa ci sia. Ebbene la creazione non ci dice che Dio ha fabbricato il mondo. Ma ci dice che il mondo dipende da Dio. Cioè la creazione ci dice che ciò che la scienza deve presupporre per potersi esercitare nella sua dinamica conoscitiva ma è Dio che ce l'ha donato. Scienza e fede quindi viaggiano su livelli diversi. Questo è molto importante perché quando noi ci confrontiamo con l'illuminismo dobbiamo ricordarci che Cristo dice di sé nel Vangelo di Giovanni io sono la luce del mondo. Allora è chiaro che l'essere umano ha la capacità di illuminare il mondo ma è una luce riflessa. E la luce riflessa del fatto che l'essere umano è stato creato in immagine del figlio come dice sempre la scrittura. E quindi è nella luce di questa origine che noi possiamo esercitare anche la nostra conoscenza. E da ultimo il Medioevo lo dice la parola stessa è stato chiamato così con un certo disprezzo. Come dire c'è stato il mondo antico poi è arrivato il cristianesimo età di mezzo per arrivare che cosa? Alla modernità che è finalmente la prodo in cui arriviamo e siamo diventati adulti. Bene se c'è un modo di organizzare le cose che esprime presunzione è appunto questo. La presunzione di ritenere che noi che siamo qui per il fatto che veniamo dopo quelli che ci hanno preceduto siamo migliori più evoluti più intelligenti più eccetera eccetera eccetera. Ebbene noi stiamo constatando che in pratica questo non è vero perché noi stiamo incrociando gli stessi problemi che c'erano 100 150 anni fa. Quindi quello che sta accadendo è un tragico bagno di umiltà. Ma se noi e anche di umiliazione perché l'umiltà è generata tra volte l'umiliazione. Se noi in questo bagno ci passiamo però con la coscienza che può essere un bagno di purificazione forse possiamo in effetti affrontare le cose in maniera diverse. E con questo arrivo a secondo e terzo passaggio. Ancora un quarto d'ora e poi finito. Perché la tesi che sto sostenendo è questa. Rispetto al confronto col mondo perché noi stiamo a raccontarcela. È questo che sta capitando. Noi siamo di fronte al confronto col mondo. Abbiamo provato a fargli guerra al mondo. Abbiamo provato a fare pace col mondo ma non è che i risultati siano migliori. Certamente di migliore qualcosa c'è. L'atteggiamento è cambiato. In effetti ci siamo bonificati da forme di odio, di rifiuto che erano inquinanti. Oggi ne possiamo accostare persone che 50 anni fa non avremmo accostato. Grande opportunità perché Gesù Cristo ha accostato tutti. Quindi qualcosa di buono è accaduto. Perché? Perché lo Spirito Santo lavora. Ma certamente non è avvenuto per la nostra presunzione di avere trovato la strategia finalmente risolutiva che ci fa guardare dall'alto in basso quelli che ci hanno preceduto. Allora forse un'ipotesi può essere questa. puntare a distinguere per unire. Cioè nel confronto con il mondo noi dobbiamo distinguere le posizioni, distinguere quello che può essere da noi avvicinato, quello che invece va tenuto a distanza, perché non tutto può essere accolto. Noi giustamente diciamo che la differenza è un valore, è certamente un valore, ma questo non vuol dire che noi possiamo accogliere qualunque differenza. Perché se noi accogliamo qualunque differenza, nulla significa più niente. Tutto qui. Quindi è chiaro che alcune differenze non potremo accoglierle. Alcune le potremo accogliere solo in parte. Dobbiamo riuscire a distinguere appunto per unire. Perché comunque ci sia la possibilità di comunicare. Ora credo che l'elemento con cui occorre fare soprattutto i conti è l'ideologia. Perché? Perché l'ideologia, quando identifica le distinzioni, le pone sul campo in chiave contrappositiva. E probabilmente nel nostro atteggiamento remoto c'era molto di ideologico. Quando noi tendevamo a contrapporci frontalmente a qualcuno c'era senz'altro una componente ideologica. Ma il fatto che noi abbiamo e vogliamo superare quell'approccio non deve significare che allora a occhi chiusi andiamo incontro a qualunque cosa. Insisto su questo perché secondo me questa è la caricatura che di questo papato stanno facendo i giornali mass media. I mass media stanno facendo passare Papa Francesco come uno che in questo abbraccio che lui ha verso tutti quelli che incontra battezza qualunque cosa. Ora a me sembra quanto di più ideologico si possa immaginare. Perché quest'uomo è un gesuita. Vuol dire che quest'uomo veramente va sulle frontiere e non ha paura. Ma quando va sulle frontiere lui ci va per evangelizzare le frontiere. Non per farsi mondanizzare. Allora è bene che noi non confondiamo questa accoglienza a 360 gradi che è esemplare e che ci deve introdurre secondo me in uno stile pastorale in base a cui noi accogliamo tutti ma accogliendo tutti non diciamo a tutti che ci va bene tutto perché se ci andasse bene tutto vorrebbe dire semplicemente che non sappiamo più niente. Allora occorre avere questa capacità di sapere distinguere ciò che identifica al cuore l'annuncio cristiano. Ciò che non può essere mai trascurato. E soprattutto per chi fa catechismo. Perché vedete se noi nel nostro catechismo finiamo per introdurre in un generico umanitarismo noi non stiamo più introducendo in Gesù Cristo, nel rapporto con Cristo nella Chiesa. Se noi introduciamo dentro un incontro personale con Gesù Cristo che si va liquefacendo in chiave esistenziale, noi non facciamo più incontrare la verità che si è fatta carne. Allora è bene che ci interroghiamo su questo, su quanto abbiamo chiari i fondamentali, gli elementi inderogabili che sono quelli che vanno a identificare che cosa? L'annuncio cristiano, che è un annuncio storico. Ecco perché deve essere riconoscibile. E qui vorrei concludere questo passaggio ricordando la frase di un grande teologo che si chiamava Enri de Lubac, che venne creato cardinale da Giovanni Paolo II. Lui disse a un certo punto non è vero che l'uomo, come sembra talvolta si dica, non posso organizzare il mondo terreno senza Dio. È vero però che senza Dio non può alla fine dei conti che organizzarlo contro l'uomo. Allora, questi segnali di difficoltà, di fatica, li dobbiamo prenderli come sintomi del fatto che abbiamo cercato di costruire un mondo senza Dio, che si sta ritorcendo contro di noi. Da dove cominciamo? Qui sarò molto rapido perché da qui partirò la volta prossima. Da tante prospettive evidentemente, non è che questa è l'unica. Però secondo me questa ha un suo elemento di fondo, come la volta prossima ne svilupperò un'altra cosa che secondo me va in questa direzione. In due battute utilizzo un'immagine. Quando noi annunciamo Dio, noi annunciamo che cosa? L'infinito, qualcosa di infinito. Tutti noi associamo Dio all'infinito. Ci siamo? È vero o no? Ora, ci avete mai fatto caso a come è costruita la parola infinito? La parola infinito è costruita per negazione. L'infinito è il non-infinito. Perché? Ma perché noi non facciamo mai esperienza dell'infinito. Quando noi facciamo esperienza dell'infinito? Mai. Tutto quello che noi sperimentiamo è limitato. Tutto, provate a pensarci, tutto quello che noi sperimentiamo è limitato, cioè è finito. Mai noi facciamo l'esperienza dell'infinito. Perché? Perché la nostra vita termina. E noi lo sappiamo tutti. L'unica certezza indubitabile della nostra vita è che verrà il giorno che moriremo, eh. Di nessun'altra cosa abbiamo questa certezza. Di nessun'altra cosa. Questo spiega perché la nostra esperienza è sempre limitata. Ma allora dove salta fuori questo infinito? Salta fuori da una cosa. Noi dentro la nostra vita possiamo credo facilmente cogliere che c'è un motore nella nostra vita. Questo motore si chiama desiderio. La nostra vita si costruisce attorno dei desideri. E i desideri possiamo dividerli in due grandi categorie. Una categoria li contiene tutti meno uno. L'altra contiene quest'unico desiderio. Da una parte abbiamo tutti i desideri che sono finiti. Io ho sete, desidero quindi bere, verso l'acqua nel bicchiere, bevo l'acqua dal bicchiere, ho soddisfatto la mia sete. Desiderio finito. Tutti i nostri desideri sono così meno uno. Quale? Il desiderio d'amore. Perché? Perché quando noi amiamo qualcuno siamo introdotti in una esperienza totale. Volete una verifica di questo? Faccio una ipotesi, vediamo se voi siete d'accordo. Io penso che quando si ama qualcuno si rimane stupiti del fatto che si ama questa persona nonostante abbia quei difetti che abitualmente rifiutiamo. È vero o no? Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi nell'esperienza d'amore abbracciamo totalmente questa persona. Difetti inclusi. Infatti qual è una delle cose più sbagliate quando si ama qualcuno? È pensare che lo si cambierà. No, è sbagliato. Quando ne amiamo qualcuno non dobbiamo pensumere di cambiarlo. Magari cambierà. Magari potrà avvenire anche che noi possiamo indurlo a cambiare. Ma attenzione, noi lo amiamo così com'è. Se no questo non è amore. È attenzione, è affezione, ma non è l'amore che permette la decisione definitiva di sposarsi. Quando due si sposano o si amano come sono o è meglio che non si sposino. Perché la definitività intenzionale espressa dal matrimonio dice questo. Ed ecco loro il punto. L'essere umano ha sempre fatto i conti con questo elemento di formidabile meraviglia. Ossia di vivere un'esperienza di totalità quando la totalità gli è sempre preclusa. Perché l'essere umano ha sempre uno spicchio del mondo, mai tutto il mondo. Eppure quando noi amiamo qualcuno, secondo la carne o secondo lo spirito, come ci attestano i mistici, che infatti usano le stesse immagini coniugali per alludere al loro rapporto con Dio, noi facciamo l'esperienza della totalità. Cioè noi facciamo l'esperienza di qualcosa che è oltre, attenzione a questo passaggio sto per concludere, i gesti finiti che noi possiamo praticare per dire questo amore. Perché se io amo qualcuno in questo modo, tutti i gesti che io posso compiere per dire a questa persona il mio amore, tutti saranno inevitabilmente finiti. Cioè non corrisponderanno mai a quello che invece esprime il nostro amore. Ebbene questo scarto tra quello che noi riusciamo a fare, che è sempre finito, e quello che noi scopriamo invece attraverso l'amore, che è la possibilità dell'infinito che cosa ha portato? Ha portato ad aprirsi sulla trascendenza. Ci ha portato a dire non possiamo noi accontentarci di questo mondo dove tutto è finito e quindi riconosciamo che esiste l'infinito anche se non lo incrociamo mai. È chiaro? La trascendenza noi la scopriamo negando la finitudine. E perché neghiamo la finitudine? Perché facciamo l'esperienza di un richiamo totale come quello dell'amore, che ci porta a dire non può bastarci tutto quello che noi in maniera finita tocchiamo, pesiamo, facciamo. Dobbiamo aprirci su un oltre che chiamiamo infinito appunto perché di questo oltre possiamo soltanto dire che non è finito. Ora, a me sembra che questa cosa sia contemporaneamente enorme ma anche molto feriale, quotidiana. E allora dato che molte volte ho parlato di Gesuiti, termino ricordandoci cosa c'è scritto sulla tomba di Sant'Ignazio di Loyola, fondatore di Gesuiti, nella chiesa di Gesù a Roma. Perché questa frase è interessante. C'è scritto che è divino ciò di cui non si può dare il maggiore. E fin qui, tutto sommato, c'erano arrivati in tanti a dirlo. Cioè che non ci può essere niente di più grande di Dio, d'accordo? Quindi dice la frase è divino ciò di cui non c'è nulla di più grande. Ma dice anche un'altra frase. È divino ciò di cui non c'è nulla di più grande ed è divino ciò che si raccoglie in ciò che è più piccolo. Non soltanto è divino ciò di cui non si può dare niente di più grande, ma è divino anche ciò che si raccoglie nel più piccolo. E da dove viene questa seconda parte della frase? Ma dall'annuncio cristiano. L'umanità ha sempre capito che se c'era un Dio da qualche parte era il più grande. Sempre l'ha capito. E infatti per arrivare a incrociare questo Dio o questi Dei si sono fatte cose gigantesche. Le piramidi, eccetera. Si sono sacrificati migliaia di uomini, sacrifici umani. Cioè si è puntato a fare l'estremo. Ma che cosa il cristianesimo ha svelato di questo Dio che finalmente si è espresso nella rivelazione biblico cristiana? Che non è soltanto ciò di cui non si può dare niente di più grande, ma è anche colui che si nasconde nell'infinitamente piccolo. Ed ecco l'incarnazione. Dio che diventa un bambino. Ora dico questo perché? Perché quando noi facciamo i conti con le difficoltà che ho cercato sommariamente di evocare, siamo esposti a due rischi di fondo. Primo rischio. Dobbiamo fare qualcosa di gigantesco. Perché se non facciamo qualcosa di gigantesco non potremo introdurre in Dio. Ma il Dio cristiano si è rivelato come colui che sa abitare l'infinitamente piccolo. Se pensiamo alla logica dell'incarnazione, che è esattamente la logica di questo piccolissimo che si è incarnato nel grembo della Vergine Maria. E allora non occorre che noi facciamo cose gigantesche, enormi, stupefacenti. Non è che dobbiamo andare a cercare gli effetti paranormali. La mia impressione è che alle volte noi rischiamo di fare i circensi. Cioè di inventare qualcosa che risulti talmente strano da scuotere. Nulla di più stupido, secondo me. Ma l'altro rischio qual è? È che quando noi, prese le legnate, ci chiniamo sull'infinitamente piccolo, non ci rendiamo conto della grandezza dell'infinitamente piccolo. E quindi rischiamo di fare quelle cose che i poeti crepuscolari chiamavano le piccole cose di pessimo gusto. Mentre se il piccolo che vogliamo valorizzare deve condurre a Dio, deve essere bello, deve essere grande, deve essere un piccolo non banale, non deve essere il piccolo di risulta la segatura che rimane quando si è fatto qualcosa d'altro. Deve essere un piccolo che esprima tutta la grandezza che noi portiamo a quel Dio che lo sa abitare come sa abitare l'infinitamente grande. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Giuseppe. Abbiamo parecchi spunti su cui poter riflettere. Credo che non basterà stasera per poter approfondire tutto quello che ci hai raccontato. Come ogni volta, meno la prassi che abbiamo adottato in questi anni, quella di prenderci un attimo adesso dove proviamo a cogliere alcuni aspetti o ce li siamo appuntati o ci confrontiamo e poi possiamo sottoporre a Giuseppe qualche nostra considerazione o qualche domanda di chiedimento. Ok? Qualche attimo di pausa. Ok. Ci dedichiamo ancora, non molto, qualche minuto, dai, così che vediamo di o rifocalizzare alcune cose oppure anche condividere. Sì, io vorrei fare un dialogo, cioè ad ogni spunto rilancio. Io, ok, lascio la parola, io lascio la parola a Antonia. Io volevo fare una domanda sul matrimonio. È vero che quando gli sposi dicono sì davanti a lottare, c'è un'alleanza con Dio, cioè per avere figli e per crescerli. Poi quando gli sposi si dividono, questa alleanza con Dio rimane o non c'è più? C'è una bellissima domanda quella che fa, la ringrazio, cerco di rilanciare. Allora, per noi cattolici il matrimonio è un sacramento. Che cos'è il sacramento? Il sacramento è qualcosa di materiale che ci introduce nella vita di Dio che non è materiale. Il matrimonio è quasi materiale perché sono due, un uomo e una donna che si incontrano e tutto quello che ne discende ha questo significato, il fatto che c'è la consumazione matrimoniale, eccetera. Però noi crediamo che sia sacramento perché riteniamo che misteriosamente, in quanto la parola sacramento deriva da un temico mistero, misteriosamente questa materialità viene oltrepassata nelle materiali. Pensi all'eucaristia. L'eucaristia sul piano materiale è una particola. Ma noi crediamo che misteriosamente, assumendo questo elemento materiale, entriamo in comunicazione intima con verità. Ora, perché noi siamo arrivati a credere questo? Perché nell'insegnamento di Cristo troviamo dei richiami che ci dicono questo. Allora, per esempio, nell'insegnamento evangelico, quindi non solo chi viene direttamente da Cristo, ma che è anche stato elaborato da coloro che appunto magari non hanno conosciuto Cristo direttamente come San Paolo. Appunto San Paolo, la lettera degli Efesini dice che il mistero dell'unione matrimoniale tra l'uomo e la donna è grande in riferimento al mistero dell'unione che c'è tra Cristo e la Chiesa e quindi ci introduce dentro una somiglianza che va oltre il piano della materia. Quindi il matrimonio per noi è sacramento perché ci introduce, potremmo dire, nella vita divina. Ecco perché la Chiesa ha sempre difeso in matrimonio. Perché difendendo il matrimonio la Chiesa difende una delle circostanze, potremmo dire, in cui l'essere umano da vicino, intimamente, entra in relazione con Dio. Ora però, giustamente lei dice, sappiamo come tragicamente il matrimonio possa andare incontro anche alla dissoluzione. nella concezione della Chiesa cattolica, in realtà il matrimonio, una volta che sia stato validamente contratto e consumato, non termina più. E quindi quando i due si dividono, si dividono, ma il vincolo tra loro rimane. Ecco perché la Chiesa esclude il divorzio. La Chiesa ammette la separazione, cioè ammette che per ragioni gravi, non so, la difesa della parte debole, in una coppia il marito picchia la moglie, la Chiesa ammette che la moglie possa separarsi dal marito per proteggerla, ma il matrimonio tra i due rimane. Quando avviene la separazione legale, il divorzio legale tra due che sono sposati in Chiesa, per la Chiesa il loro matrimonio permane. Ecco perché la Chiesa non ammette un secondo matrimonio, a meno che non si sia verificato che il primo matrimonio non c'è mai stato. Allora, se da una ricognizione svolta attraverso gli strumenti che la Chiesa mette in campo, è essenzialmente tutto il dispositivo della Sacra Rota, si verifica che quel matrimonio non c'è mai stato, ad esempio perché uno dei due ha fatto una promessa, ma facendo quella promessa in realtà lui ha mentito. È tipico il caso che, voi sapete che quando si fa l'accertamento per portare al matrimonio si chiede agli sposi e sono aperti al dono della vita. Ebbene, se uno dei due sposi dice di sì, però poi dice a qualcun altro che ha mentito, la testimonianza di questo qualcun altro evidentemente che cosa attesta? Che il matrimonio non c'è mai stato. E quindi a quel punto il cosiddetto annullamento non è che cancella il matrimonio, ma dichiara che quel matrimonio solo apparentemente c'era stato. In realtà non c'è stato. Ed ecco che loro una volta che il matrimonio è stato riconosciuto non valido, si può procedere a nove nozze. Quindi, quando viene celebrato il sacramento validamente, il sacramento rimane. Quando si verifica tragicamente la rottura del vincolo tra gli sposi, che sono stati però uniti in forma valida in sacramento matrimoniale, il loro matrimonio in realtà continua per la Chiesa Cattolica. Solo che continua in maniera tragica, perché evidentemente continua dentro una condizione di rottura. Ci sono spiegato? Poi chiediti una tua lettura. Mi riferimento al fatto che, partendo dalla citazione di Marco, che giova l'uomo guadagnereà il mondo intero se perde poi la sua anima. Nel tuo riflettere introducevi il concetto dell'utilità e ci mettevi in risalto come oggi la nostra cultura è legata alla funzionalità delle cose. Una cosa è valida perché è utile, altrimenti non serve. Se dicessi qualcosa sulla cultura dello scarto, che è un aspetto che oggi... Grazie anche per questa domanda. Mi pare che questo riferimento alla cultura dello scarto, che viene da Papa Francesco, il quale appunto ci invita a non abituarci a questa cultura dello scarto, sia una grande opportunità per reagire rispetto a questa tendenza a dire è importante soltanto quello che serve. Perché vedete il problema è questo. se veramente valesse soltanto quello che serve, cioè quello che è utile, mi spiegate voi a cosa serve l'essere umano? Provate a pensare. L'essere umano non serve assolutamente a niente. Tant'è vero che noi siamo l'unica specie vivente che inquina l'ambiente. Gli animali perché non inquinano l'ambiente? Ma perché gli animali servono al ciclo ambientale. Noi non serviamo al ciclo ambientale perché noi infatti inquiniamo. Ma attenzione, noi siamo anche l'unica specie vivente che sa bonificare dove ha inquinato. Allora, la ragione per cui inquiniamo è la stessa per cui bonifichiamo ed è la stessa per cui noi siamo eccentrici rispetto al ciclo ambientale. È perché siamo liberi. Ne parleremo la volta prossima. Cioè, l'idea che vorrei condividere con voi è che la porta d'accesso che forse oggi possiamo valorizzare per introdurre dentro l'incontro con Gesù Cristo la verità che ci viene da Cristo è la libertà, paradossalmente. Ma ne parleremo la volta prossima. Quindi, l'idea che dobbiamo respingere questa assolutizzazione dell'utilità è fondamentale perché se non la vita umana perde valore. Ed è coloro che nella cultura dello scarto sembra che l'essere umano vada ritenuto importante soltanto quando serve. E infatti, il Papa continua a ripeterlo, da questa cultura che sono rifiutati la parte iniziale, il bambino piccolo, provate a pensare al dramma dell'aborto, la tragedia dell'aborto, e l'anziano o il malato. Cioè, quelli che non sono più utili a niente. Ora, questa cosa perché è importante? È importante almeno per due ragioni. Prima ragione perché, se noi raccogliamo l'invito che ci fa il Papa, evitiamo di assecondare questa deriva a valorizzare solo quello che è utile, che sta procurando, tra l'altro, che cosa? La difficoltà a vivere proprio i legami. Perché i legami matrimoniali e familiari oggi sono così fragili? Perché non sono legami utili. Cioè, sono legami che vengono posti per esprimere una domanda di relazione che l'essere umano ha. Se l'utilità si sovrappone, questi legami diventano artificiosi, pesanti. Provate a pensare al verbo che usiamo tutti per i figli. Quindi, gestire i figli, è vero o no? Non è un verbo sintomatico in senso medico? Cioè, il sintomo di una malattia, perché gestire i figli, che corrisponde a quello che facciamo, eh? Perché se non ci mettiamo d'accordo su come gestire i figli, i figli rischiano di restare dispersi da qualche parte. Dice però come i legami stiano soffocando sotto questa cappa. Ma poi c'è anche un'altra questione, che penso possa essere quella che ci risveglia, ed è la seguente. Certamente noi abbiamo raggiunto gli stili di vita che conosciamo in un percorso storico che è durato circa 100-150 anni e che ha avuto il sapore di una conquista e che è stato in effetti una conquista. Ma questa conquista da nessuna parte sta scritto che rimarrà. Allora vorrei farvi riflettere su una cosa. Ci state facendo caso che sta saltando il riposo festivo? Cioè, esercizi commerciali aperti anche la domenica. Questa cosa perché viene promossa? Perché si dice fa girare l'economia. Ed è vero. Si dice, in un mondo nel quale c'è scassità di lavoro, diamo lavoro. Ed è vero. Ma qual è il problema? Il problema è semplicemente questo. Il significato del riposo festivo è il primato del lavoratore sul lavoro. Questo è il significato del riposo festivo. Perché se io faccio lavorare una domenica lo pagherò magari dieci volte, non lo so. Ma io lo sto comunque comprando. Questo è il punto. Perché se l'essere umano è sempre a disposizione del lavoro, sempre, vuol dire che l'essere umano vive per lavorare. E chi vive per lavorare? Ma è lo schiavo che vive per lavorare. Guardate che quando noi pensiamo agli schiavi, pensiamo a un mondo affamato di sangue, va bene. Ma i padroni illuminati ci sono sempre stati. Gli schiavi quindi trattati bene ci sono sempre stati. Ma allora qual era il problema? Il problema era precisamente questo. Che lo schiavo era considerato un bene di proprietà. A disposizione. Tutto qui. Allora attenzione che noi rischiamo di tornare lì. Ma voglio fare un'altra piccola appendice a quello che diceva adesso Don Davide. Ho parlato prima del fatto che il senso del riposo festivo è il primato del lavoratore sul lavoro. Cioè il fatto che il lavoratore non è a disposizione del lavoro. Ma semmai è il lavoro che è a disposizione del lavoratore. E quindi ho detto se uno è tenuto ad andare a lavorare sempre ebbè vuol dire che è a disposizione. Ora è chiaro che ci possono essere alcune... Non so, la questione del medico implica che uno sia in servizio anche la domenica. Ma perché il medico? Ma adesso sta diventando una cosa di tutti. Ora vorrei riflettere con voi su questa storia dell'essere a disposizione. portandola su un'altra questione che pure stiamo liquidando come stiamo liquidando il primato del lavoratore sul lavoro. E questa questione si chiama pudore. Che senso ha coprire il corpo? Perché è sbagliato esibire il corpo soprattutto nelle sue forme intime pubblicamente. Che significato ha coprire il corpo soprattutto nelle sue forme intime? Ha un significato fondamentale. Quello di dire che il corpo non è a disposizione. Quello di dire che il corpo non è una cosa. E perché è fondamentale dire che il corpo non è una cosa? Ma perché le cose le usiamo. Gli esseri umani no. E' colora che se noi stiamo ottenti al pudore e noi cosa facciamo? Custodiamo l'integrità dell'essere umano. Adesso voglio farvi un esempio che non c'entra niente con quello che tutti noi stiamo pensando in questo momento ma è quello che sto raccontando. Perché l'esempio qual è? È tragico ma lo dico apposta perché non vi sembri che io mi lasci trascinare da qualche forma diciamo di prurito. Cosa capita quando accade un incidente stradale? O un qualunque incidente che implichi che purtroppo qualcuno perde la vita? il corpo viene coperto. Perché noi copriamo il cadavere? Certamente non perché il cadavere se ne abbia male se qualcuno lo guarda. Perché il cadavere è cadavere. Noi copriamo il cadavere per sottrarlo all'occhio indiscreto. e infatti non lo copriamo ai congiunti ma lo copriamo agli estranei. E perché noi copriamo il cadavere per sottrarlo all'occhio indiscreto agli estranei? Perché non vogliamo trattare il cadavere come una cosa. Forse che noi copriamo le cose. Le cose più le usiamo più sono a disposizione. Tutt'altro che nascoste dietro qualche anfratto ma sono lì magari sulla mensola giusto? appunto sono scoperte per essere usate. È fondamentale che noi cogliamo che l'essere umano avendo una degnità esprime un valore simbolico che è molto più importante di ciò che noi possiamo descriverne. Da cui allora l'attenzione a evitare che l'essere umano venga usato l'attenzione quindi a motivare quegli atteggiamenti come il pudore che alimentano la coscienza della propria e dell'altrui dignità. Bene ci sarebbero ancora molti spunti ma adesso ora comincia a farsi tarda anche perché tutti veniamo da una giornata impegnativa poi continueremo anche la volta prossima e quindi ci sarà modo anche per confrontarsi. Intanto ringrazio Giuseppe per la sua preziosa presenza e la sua riflessione vi auguro un buon mese un buon servizio nelle vostre parrocchie e un buon rientro buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti